Sotto il ponte della decima strada troviamo The Wave, un'onda alimentata dalla corrente del fiume dove è possibile surfare a più di millimetri di quota. Usando il ponte della metro attraversiamo il fiume e ci dirigiamo verso Sunnyside. Il ponte ha un livello inferiore riservato a pedoni e ciclisti. Torniamo sul lato sud del fiume percorrendo il Peace Bridge, opera dell'artista spagnolo Santiago Calatrava e inaugurato nel 2012. Ci sono quattro accessi all'isola e noi entriamo dall'ingresso ovest dove incontriamo Enmax, il grande palco permanente. L'isola è anche usata per concerti, rappresentazioni teatrali e festival di vario genere. Poco più avanti vi è l'area picnic. Nel centro dell'isola troviamo River Cafe, un ristobar che ha appena compiuto 30 anni di attività. Qui si può scegliere di mangiare al tavolo o farsi preparare il proprio cestino da picnic. Poco distante vi è l'area giochi, attrezzata per i più piccini. Passeggiando verso est ci imbattiamo in una statua dedicata al cinquecentesimo anniversario della nascita di Nicolò Copernico. A Calgary i lavori non si fermano mai, infatti qui possiamo notare i lavori di rifacimento dell'ingresso principale. continuando verso est ci troviamo a passeggiare tra varie sculture posizionate in una zona dell'isola dove modernità e cultura locale si fondono. a Calgary i lavori di cui amificazione dovrebbero essere promulgare il nostro corso All'estremità est dell'isola si trova una piccola riserva naturale. All'estremità è un'esola. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Essendo Calgary una città di montagna, il tempo è imprevedibile. Grazie a tutti.